Il 26 maggio, Principe di Corloa e la mia famiglia, vi aspetta a cantine aperte. L'evento del primaverile è più atteso, dove daremo la possibilità a tutti i well over di venire a visitare le nostre cantine, le tenute e immergersi nella campagna corleonese. Sarà un evento dove abbineremo i nostri prodotti tipici insieme ai vini pregiati della linea delle collezioni, che al venite hanno raggiunto un successo notevole. Faremo assaggiare il Sofia Cataratto, vino di alta montagna, il Sofia Nero d'Avola, il Ridente Angelica, che negli ultimi periodi ha avuto notevoli successi e premi internazionali. Tutto quanto verrà abbinato ai prodotti tipici del territorio, come lo sfincione tipico corleonese, la caponata e i formaggi locali. Sarà un momento dedicato ai well over, dove potranno vedere cosa si beve, vedranno dove viene prodotto e suggeriremo come poterlo degustare insieme in compagnia. Sarà un altro momento in cui abbineremo ai vini e al cibo anche dell'ottima musica per poter trascorrere una felice e serena giornata alle cantine di Principe di Corleone. Grazie a tutti.